teleobiettivo che è uno strumento importantissimo per noi che facciamo televisione per chi fa fotografia ovvero quel sistema di lenti divergenti e convergenti che permettono di avvicinare gli obiettivi di ingrandirli di fotografarli meglio e pertanto è un obiettivo quello che ci poniamo di gettare il focus proprio su un tema specifico in questo caso poi chi vuole può scomporla la parola cioè l'obiettivo della televisione in questo caso ovvero di questa trasmissione è il ponte sullo stretto di messina che è tornato di grande attualità con l'inizio di quest'anno e dall'insediamento del governo meloni in poi su di esso spinge fortissimamente il ministro delle infrastrutture salvini è un tema quello del ponte sullo stretto antichissimo vero del collegamento stabile tra la calabria e la sicilia la natura milioni e milioni di anni fa le ha separate quella di unirle è un sogno antichissimo duemila anni fa già plinio il vecchio ma poi ne parlarono fra gli altri anche roberto il guiscardo carlo magno federico di borbone in tempi più recenti con l'avanzamento della tecnologia delle tecnologie ingegneristiche in modo particolare questo sogno è diventato sempre meno utopia sebbene sebbene ciò comporti scelte dal punto di vista politico e anche economico molto impegnative e chiaramente anche una spesa notevolissima enorme dal punto di vista economico e questo è uno dei grandi problemi l'altro è quello legato alla particolarità del luogo perché lo stretto di messina è un luogo straordinario da un lato la bellezza le bellezze diciamo incomparabili lungomare il chilometro più bello d'italia lo definì gabriele d'annunzio il lungomare di reggio calabria dall'altra parte la struggente bellezza di capo peloro di ganzirri un luogo in cui peraltro ci sono delle ricchezze inestimabili dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e lì si va ad incidere chiaramente non si può non pensare che il ponte non influenzi il futuro per sempre di questa zona e poi il ponte sullo stretto significa appunto lo stretto e lo stretto evoca un grande problema peraltro questo lo dicono i sismologi e causa anche della nostra bellezza la nostra poca stabilità siamo emersi in un'era geologicamente non abbastanza vicina ed è per questo che lo stretto è un'area a grandissima intensità sismica non c'è bisogno di ricordare il terremoto all'inizio dello scorso secolo e anche il fatto che lo sanno bene gli studiosi prima o poi quella zona tornerà a tremare a muoversi è inevitabile che questo accada e questo impone dei problemi notevoli proprio in fase di progettazione ed esecuzione di un'opera così mastodontica è per questo che abbiamo scelto di partire da carlo tanzi carlo tanzi è stato il presidente dei geologi calabresi è uno studioso è un ricercatore del consiglio nazionale delle ricerche uno dei massimi esperti di sismologia in calabria ed in italia è quella che stiamo per proporre più che un'intervista una vera e propria lezione estremamente interessante che vi consigliamo di seguire e poi c'è anche il parere di un uomo che non è come si potrebbe pensare pregiudizialmente contrario al ponte ma che guarda adesso con interesse e chiedendo che vengano anche affrontati problemi che forse sarebbe meglio risolvere prima di arrivare anche all'attraversamento stabile dello stretto il ponte di Messina torna ad essere argomento di discussione il progetto della sua costruzione è tornato ad attualità in questi giorni in queste settimane da quando si è insediato il governo meloni carlo tanzi anzitutto chiedo al geologo e doverosa direi come parentesi cosa si muove sotto le viscere della terra calabrese e siciliana come dobbiamo considerare questa terra alla luce di quello che sappiamo e delle conoscenze attuali che un anno fa hanno avuto anche un impulso notevole da un'inchiesta alla quale anche lei ha partecipato terremoti si localizzano in questi puntini rossi sono i terremoti di tutto il mondo e non sono non è che vediamo ci sono gran parte del pianeta molte parti del pianeta che sono esenti da terremoti anche la stragrande maggioranza i terremoti invece si localizzano si concentrano nelle zone di convergenza o divergenza tra le placche e la calabria proprio è collocata se andiamo ancora più avanti è collocata vedete proprio qui tra la placca eurasiatica e la placca africana ancora più avanti in pratica la calabria ecco si trova in una zona di scontro tra due placche tra due continenti e quella linea rossa è proprio la zona di contatto tra queste due grandi placche che si stanno avvicinando se andiamo ancora più avanti ecco qui l'africa che più pesante più densa rispetto all'europa scende sotto l'europa e in corrispondenza guarda caso della della zona grosso modo che passa per la zona del progetto del ponte del ponte io chiamo direggio messina per un fatto di parcondicio lo chiamerei e quindi in questo caso se andiamo ancora più avanti quando le rocce sono compresse da forze così forti così intense come lo scontro tra due continenti le rocce si rompono si rompono lungo le faglie ogni qualvolta una faglia si rompe esplode possiamo dire in qualche modo si genera un terremoto in calabria abbiamo faglie lunghe fino a quasi 70 80 chilometri sono profonde fino a 15 chilometri di profondità le faglie calabresi e se andiamo ancora più avanti ecco qui queste linee rosse sono tutte le faglie attive che hanno generato i terremoti in calabria vedete che se andiamo verso dal pollino fino allo stretto abbiamo faglie tanto è vero che la calabria in calabria si sono concentrati più della del 50 per cento dei terremoti distruttivi quindi ad alta ad alta magnitudo negli ultimi 300 anni questa faglia attraversa la calabria in senso longitudinale e passa per lo stretto di messina questa linea questa linea nera che vediamo poco più a nord quel tratto rosso quindi a pochi chilometri a poche qualche centinaia di metri in alcuni casi da quella da questa faglia dovrebbe sorgere il ponte di reggio messina un'altra questione importante è che in calabria abbiamo un tasso di abusivismo record in italia cioè 142 mila edifici sono abusivi in pratica vivono in case abusive un calabrese su quattro questa è la media quindi questo vuol dire che in caso di terremoti anche non violenti non come 908 anche per magnitudo superiore a 5 si possono avere danni molto diciamo danni e morti soprattutto paradossalmente fare un ponte antisismico e poi magari intorno un contesto ad alta vulnerabilità sismica significherebbe magari il ponte rimane in piedi e poi abbiamo due parti da un lato e dall'altro che crollerebbero questo è il problema come dire il problema nudo reale la sicurezza delle degli edifici in calabria al di là del ponte oggi la l'ingegneria ha raggiunto delle conoscenze di soprattutto dei materiali di costruzione molto molto all'avanguardia siamo nel 2023 quindi a mio avviso il ponte è futuribile si può realizzare però è qualcosa un grande punto interrogativo perché sarebbe realizzato il ponte più nettamente più lungo del mondo in una delle aree sismiche a più elevata sismicità del pianeta noi abbiamo a mio avviso tutto il lato ionico della calabria che in caso di grande calamità l'abbiamo visto in caso di forte terremoto alluvione è completamente scoperto perché c'è una sola strada che passa da quelle parti la vecchia 106 e abbiamo una sola ferrovia ecco qui abbiamo due calabria al parlo a livello di sicurezza in caso di evacuazione per motivi di emergenza mettiamo la parte la comodità per i calabresi che non devono avere nessun trattamento di serie a di serie b però abbiamo tutto un lato tirrenico in cui abbiamo una ferrovia che sarà sempre più velocizzata addirittura si vuole fare una follia realizzare la ferrovia per perforare il pollino mi avviso tecnicamente ci vorrebbero 40 anni no ma poi abbiamo un'autostrada 2 che è sempre più veloce abbiamo l'aeroporto della mezza all'aeroporto di reggio calabria e poi abbiamo dall'altro lato la calabria non di serie b rispetto a quella di serie a di serie c o serie c2 dal lato ionico dove abbiamo infrastrutture realizzate più di 150 anni fa allora io distingo i due piani è stata una magnifica lezione la sua a livello geomorfologico anzi credo che magari anche il il consiglio nazionale delle ricerche debba sempre di più proporsi verso le scuole perché sono cose delle quali i bambini sentono i ragazzi i nostri ragazzi sentono parlare che non conoscono approfonditamente invece dovrebbero conoscere in maniera precisa esiste un problema di messa in sicurezza generale della regione vale la pena investire posto che quello del della messa in sicurezza è un sogno di complessa e che necessita di molto tempo realizzabilità e che invece sul ponte si sta accelerando in maniera che non sospettavamo neanche un paio di mesi fa ne vale la pena vale la pena ripeto se si mette in primo piano in ordine di non è quello che verrà messo in primo piano e allora il ponte si il resto forse è dopo ne vale bene a livello tecnico è un'opera una grande sfida ingegneristica in un contesto molto molto complesso geologicamente dunque carlo tanzi sostiene cerchiamo di affrontare i problemi che già preesistono a partire dal fatto che c'è una calabria a due velocità un versante tirrenico lepre un versante ionico lumaca il ponte è una opera enorme e molti dei suoi numeri saranno numeri record alcuni li vedremo subito altri ricorderemo intanto i tempi di realizzazione stimati e se non vi fosse alcun impedimento ostacolo burocratico problema sono di sette anni circa il ponte ha una lunghezza avrebbe una lunghezza di tre chilometri e 300 metri è chiaramente presi in esame il punto più stretto tra sicilia e calabria una larghezza dell'impalcato di circa 60 metri le torri sarebbero alte poco meno di 400 metri i cavi di sospensione sarebbero lunghi più di cinque chilometri 5.320 metri questo per permettere la costruzione di sei corsie stradali che consentirebbero al a 6.000 veicoli ogni ora di attraversarlo e di 20 chilometri e mezzo circa di allacci che sul versante calabrese significerebbero collegamenti con l'a2 l'autostrada del meriterraneo e poi due binari che farebbero passare circa 200 treni al giorno e collegamenti per oltre 20 chilometri anche lì a livello cioè ferroviario il primo progetto arriva 22 anni dopo l'unità d'italia nel 1883 e degli ingegneri di ferrovie dello stato ed è un ponte a 5 campate nel 52 poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale la società steinmann progetta invece un ponte a tre campate tre anni dopo nasce la gruppo ponte messina società per azioni nel 1969 viene lanciato un concorso internazionale di idee cui pervengono 143 progetti ben 125 dei quali solo dal nostro paese il la prima volta che viene presentato il progetto di un ponte accampata unica da parte della gruppo ponte messina e il 1978 tre anni dopo la gruppo ponte messina si trasforma nella stretto di messina spa come l'abbiamo conosciuta fino a pochissimi anni fa 11 anni ancora e nel 1992 viene presentato il primo progetto preliminare definitivo saltiamo al 2005 quando l'associazione temporanea di impresa euro link a guida impregilo quella che adesso è we build per intenderci vince l'appalto che però viene quasi immediatamente stoppato dal governo prodi nel 2009 il 23 dicembre due giorni prima di natale sorgono i primi cantieri a cannitello sono quelli che danno origine alla variante cannitello villa san giovanni nel 2010 euro link consegna il progetto definitivo e quello sul quale tuttora si continua a lavorare nel 2012 viene completata la variante ferroviaria e però il primo marzo del 2013 mario monti il governo tecnico successivo ai governi berlusconi liquida la stretto di messina spa adesso le voci chiaramente poi ciascuno di voi si farà la sua idea a partire dalla presidente di cambiante anna parretta secondo la quale il ponte non può essere in cima ad una ideale scala di priorità di che si riferisce ai problemi infrastrutturali della calabria oltretutto parretta sottolinea come finora si è stato speso e non esiste di fatto alcunché oltre un miliardo di euro e che il rischio è quello di dissipare ulteriori risorse pubbliche che invece potrebbero essere usate dice la presidente di lega ambiente calabria più utilmente anna parretta presidente di lega ambiente calabria l'accusa che viene mossa più spesso a voi ambientalisti è quella di dire sempre di no a tutto di essere i nemici delle opere pubbliche la vostra avversità al ponte da cosa è motivata e poi voi avete anche lo avete già fatto avete controproposto quali sono le alternative secondo voi al ponte al collegamento stabile come si chiama con tra la calabria e la sicilia il ponte sullo stretto di messina è come l'araba fenice torna periodicamente con la vecchia stessa logica si pensa alla realizzazione di cattedrali nel deserto ma non a risolvere i veri grandi problemi del territorio calabria e siciliano quindi il ponte rischia fondamentalmente di drenare in maniera inutile come è successo finora risorse pubbliche un miliardo di euro è costato finora l'ipotetico ponte in studi consulenze e stipendi della società stretto di messina che adesso è in liquidazione ma dovrebbe tornare in attività e altri svariati miliardi dall'entità non quantificata costerebbe la costruzione io vorrei ricordare che nella relazione del gruppo di lavoro del ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile dopo aver scartato l'ipotesi del project financing quindi dell'intervento dei privati il ponte appunto comporterebbe una realizzazione dell'opera interamente a carico della finanza pubblica quindi rischierebbe il ponte di fomentare anche circuiti di illegalità senza creare reale sviluppo tantomeno sviluppo sostenibile green le risorse pubbliche al nostro parere devono essere utilizzate invece per creare occupazione e lavoro duraturo passiamo nelle proposte quindi il Gioi PNRR, volevo ricordarlo, prevede risorse per la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e dei terminali marittimi e destina 60 milioni alla rete ferroviaria italiana S&P per l'acquisto di nuove navi moderne e con alimentazione librida mentre altre fonti economiche sono previste per rinnovare i mezzi delle flotte private inoltre per i quelli elementi a lunga distanza è previsto anche l'acquisto di nuovi treni freccia rossa che sono capaci di traghettare direttamente dalla Sicilia risparmiando tempi la nostra proposta per quanto riguarda il trasporto di anato e lungo lo stretto è quella di vedere ad alta velocità che possano entrare in moderni traghetti cosiddetti roll-on e roll-off sono lunghi 200 metri e permettono alle frecce di entrare senza sconforsi e quindi di uscire direttamente dalla direzione opposta così minimizzando quelli che sono i tempi di attraversamento Quello che è successo ad Ischia dimostra come e su questo io penso che anche coloro che propongono il ponte non possano non essere d'accordo come la manutenzione sia del territorio in genere sia la più grande opera pubblica di cui questo paese ha immediatamente e urgentissimamente bisogno siamo un paese in cui quando piove può scapparci il morto falcidiato da frane purtroppo anche spesso da terremoti in cui spesso si costruisce dove non si deve e alla rete dei trasporti ha anche fatto cenno lei poc'anzi i soldi, e questo lo dice anche il ministro dello sviluppo economico per tutto non ci sono dove si vanno a reperire quelli per la manutenzione straordinaria e quanto questo confligge con il progetto di riavviare la costruzione del ponte Allora, l'indispensabile dovrebbe essere evidente utilizzare le risorse economiche per risolvere le tante priorità calabresi agendo in maniera concreta per un reale sviluppo ecosostenibile della Calabria quindi è assolutamente necessario che le amministrazioni competenti programminino e mettino in atto seri e risolutivi interventi di protezione e di mitigazione del rischio geologico mettendo in sicurezza il territorio, le persone con azioni incisive ad esempio rinaturalizzando i fiumi torrenti cementificando il territorio quindi dovrebbe essere chiaro che le risorse devono essere utilizzate in primis per adattarci ai cambiamenti in corso e ai cambiamenti che verranno mentre l'Italia e quindi di conseguenza anche la Calabria non ha un piano nazionale sull'esattamento climatico che in stanza dal 2018 a livello nazionale nessuna delle nostre città ha adottato piani di prevenzione di questo tipo in sostanza l'agenda politica è l'obbligo di porre al centro i temi ambientali è un momento difficilissimo, una congentura straordinariamente difficile per il nostro paese dal punto di vista economico il numero degli occupati fra diretto e indotto che il ponte genererebbe è sempre stato molto stimato in maniera diversa a seconda dei ministri dei governi degli anni Salvini parla di 120.000 posti di lavoro come si fa a dire di no ai posti di lavoro? e allora se questo fosse, ma anche se fossero la metà chiaramente si tratterebbe di un argomento valido a sostegno del progetto cosa risponde? non è assolutamente un argomento valido perché non sono assolutamente stimati neppure i costi del ponte né la durata di costruzione tra l'altro si tratterebbe di un'ocuazione assolutamente temporanea che quindi non risponderebbe all'esigenza appunto né della Calabria né della Sicilia bisogna invece muoversi completamente in un'altra direzione pensiamo alle fonti di energia rinnovabile ad esempio che servono proprio alla lotta climatica quindi fondamentalmente a decarbonizzare l'economia creando appunto un posti di lavoro veramente in una direzione sostenibile si calcola che al momento siano circa 3 milioni la Calabria in particolare è la terra del sole e del vento possiamo contribuire in maniera consistente realizzando impianti dell'energia rinnovabile quindi a migliaia in direzione esattamente contraria le fonti di energia fossile come ad esempio il gasificatore di gioia d'auro e costruendo ad esempio impianti di olio che veramente realizzerebbero uno sviluppo verde sul nostro territorio e non rinnovare Di tutt'altro avviso chiaramente gli industriali per il presidente di un'industria Calabria Aldo Ferrara il ponte sarebbe attrattivo per altre infrastrutture oltre a far crescere il prodotto interno lordo e l'occupazione tuttavia Ferrara chiede un progetto più complessivo che riguardi il paese e consenta al sud di rilanciarsi anche perché l'occasione è straordinariamente probabilmente occasione unica tra PNRR da una parte risorse europee, il POR, il piano operativo regionale dall'altra sulla nostra regione è disponibile per la nostra regione meglio ancora è disponibile una massa di risorse come mai si era visto prima Gli industriali non possono non essere d'accordo con il rinascente progetto di costruire il ponte sullo stretto di Messina Aldo Ferrara, presidente di un'industria Calabria cosa la porta alla convinzione, lei ha espresso questo pensiero secondo il quale il ponte sarebbe attrattore di altre infrastrutture di altri progetti e pertanto anche di altri investimenti Intanto è un attrattore inevitabilmente un attrattore naturale di altre infrastrutture se si realizza un'infrastruttura importante come il ponte viene da sé per esempio che l'alta velocità arriva fino in Sicilia ad esempio sappiamo che tutte quelle che sono state le 12 province che sono state interessate dell'attraversamento dell'alta velocità sono cresciute del 7% in più di PIL rispetto a quelle che invece non lo sono state ma poi si genererebbe una grande macro regione tra Calabria e Sicilia con inevitabile crescita economica pensiamo anche alla riduzione dei tempi di attraversamento e ovviamente anche dei costi di logistica per le imprese e poi abbiamo calcolato ci sarebbero 100.000 posti di lavoro più di 6 miliardi di indotto di lavori, di semi lavorati, di materiali e credo anche per esempio con il pedaggio la possibilità anche di introitare risorse da parte del nostro paese quindi ci sono una serie di elementi che ci fanno ritenere scientificamente che questa è un'opera che certamente produrrebbe benefici sotto il profilo economico dopodiché non ci fermiamo ovviamente a questo aspetto sappiamo ad esempio che il Mediterraneo in questo momento è una zona fortemente strategica sotto il profilo geopolitico realizzare il ponte sullo stretto significherebbe unificare il paese e la Sicilia e rafforzare ad esempio tutta la portualità che insiste tra Sicilia e Calabria con l'alta capacità abbiamo noi peraltro il porto di Gioia Tauro sappiamo essere un'infrastruttura importantissima per il paese e non dimentichiamo che abbiamo il Corridoio 5 Helsinki-La Valletta che attraversa da Helsinki e arriva fino in Sicilia e evidentemente ci vuole necessariamente l'attraversamento dello stretto stabile che significa ponte sullo stretto e poi sarebbe una grande opera che credo rappresenterebbe una sorta di emancipazione con una grande opera ingegneristica del mezzogiorno tutto che diventerebbe e che è inevitabilmente la porta dell'Europa nel Mediterraneo quindi per tutti questi motivi è evidente che la realizzazione del ponte sullo stretto può portare semplicemente dei benefici bisogna costruire un grande progetto paese questo grande progetto paese il mezzogiorno lo dicono tutti ma deve trovare evidentemente una sola collocazione all'interno di questo progetto strategico bisogna accompagnare gli investimenti produttivi attraverso un contesto che consente poi di rendere produttivi effettivamente ed efficaci quegli investimenti chi ne trarrebbe maggiore aggiovamento? quanto intendo settore, categoria produttiva, territorio a suo giudizio? io credo che certamente si avrebbe un'importante crescita sotto il profilo economico in senso generale certamente anche sotto il profilo industriale teniamo in considerazione che ovviamente le industrie del futuro o meglio su quelle su cui noi puntiamo sono industrie evolute sotto il profilo della sostenibilità della digitalizzazione ma anche e soprattutto dell'internazionalizzazione anche in questi termini io credo che il ponte sullo stretto possa avere anche dei riflessi sotto il profilo delle industrie più importanti del mezzogiorno che è quello turistico quindi per tutti questi motivi credo che è un'opera su cui bisogna andare avanti come si fa a tenere alla larga l'andrangheta? ma è evidente che l'azione di contrasto alla comunità spetta anzitutto alla magistratura e alla forza dell'ordine spetta ovviamente anche a tutta la società civile una forte azione diciamo di monitoraggio e di contrasto nel nostro caso ovviamente del sistema delle imprese denunciando e affidandosi sempre ovviamente alla magistratura e alla forza dell'ordine faccio un breve esempio se dovesse essere messa a terra se dovesse essere messa a terra le risorse derivanti dal piano nazionale di presa e resilienza si parla per la Calabria tra gli 8 e i 10 miliardi a cui si andrebbero ad aggiungere i 3 miliardi e 200 milioni da parte del POR Calabria più le rimodulazioni del fondo di sviluppo e coesione fino al 2023 degli anni precedenti e quelle futuri è evidente che una grande quantità di risorse sono necessarie per creare delle condizioni di sviluppo ma anche diciamo di un cambiamento trasformazionale della nostra regione è evidente che questo si fanno con delle risorse pubbliche e così come anche il Ponte Lo Stretto ma questa mobilitazione delle risorse però è chiaro che attraggono gli appetiti della comunità organizzata ma non possono neanche essere un alibi perché non si realizzano queste opere quindi è chiaro che bisogna esercitare a monte tutta una serie di azioni attraverso i protocolli attraverso uno stringente verifica delle imprese che sono chiamate a realizzare le opere attraverso il monitoraggio delle opere perché si facciano bene però io credo che se noi riteniamo che la criminalità organizzata per il fatto che esista la criminalità organizzata abbiamo avere timore, abbiamo avere paura di fare le infrastrutture e le opere allora probabilmente non conosceremo mai condizioni di sviluppo quindi non può essere un alibi questo esistono in questo momento, diciamo, tutte quelle che sono gli strumenti bisogna potenziarli? Potenziamoli mettendo a disposizione tutti gli strumenti più sofisticati mettendo a disposizione più personale nelle forze dell'ordine, nella magistratura però è evidente che queste opere debbono realizzarsi e non può essere come lo spauracchio della comunità organizzata a far sì che queste opere non si realizzino il ponte dei record, il ponte a campata unica più lungo al mondo è il ponte dei Dardanelli che si trova in Turchia che è lungo poco più di 2 km, 2.023 metri anche la larghezza dell'impalcato, quasi 60 metri e mezzo sarebbe la principale, finora il record del ponte di Sigma Bridge a Hong Kong che è di circa 41 metri e poi l'altezza delle torri, quasi 4, sfiorano i 400 metri è superiore anche in questo caso al già citato ponte dei Dardanelli in Turchia le cui torri sono alte 318 metri la tariffa sarebbe di circa 8,7 euro per le moto di 16,20 euro per le auto locali quindi quelle dei residenti in Calabria e Sicilia il doppio circa 32 euro per le auto invece che affrontano lunghe percorrenze gli autobus locali pagherebbero 30 euro quelli a lunga percorrenza 164 euro gli autocarri locali 85 euro mentre quelli che arrivano da più lontano e il traffico su gomma lo sappiamo in Italia è sviluppatissimo 110 euro, 110,50 per essere precisi torniamo alle voci non favorevoli che poi sono quelle degli ambientalisti quali fra diffidenza sui problemi tecnici e le lunghe manutenzioni e scetticismo sull'enormità della spesa l'alto rischio di contenziosi e il possibile deturpamento del patrimonio naturalistico dubitano, ovvero mettono in discussione la volontà stessa di realizzare la struttura di fronte a questa accelerazione improvvisa che ha subito di nuovo l'ipotesi di costruzione del ponte quali sono i suoi sentimenti oltre che giudizi vorrei chiederle direi ci risiamo nel senso che puntualmente ad intervalli quasi regolari si ripresenta questa proposta che è una proposta che noi abbiamo sempre definito in qualche modo messianica nel senso che quando non si hanno idee per uno sviluppo reale del sud si ripropone il ponte sullo stretto di Messina come se fosse la soluzione a tutti i mali in realtà già nel 1993 le associazioni ambientaliste tutte insieme supportate tra l'altro da tecnici e da scienziati presentarono le prime controdeduzioni al primo progetto presentato in cui si dimostrò ampiamente non solo la scarsa possibilità nonostante fosse allora un progetto assolutamente di massima della realizzazione del ponte ma anche l'inutilità assoluta di quest'opera oggi riprendiamo questo tormentone ci dicono che addirittura è cantierizzabile il ponte cosa non vera perché il progetto esecutivo non esiste e non esistono soprattutto le soluzioni a quei problemi numerosi che sono stati posti esiste la voglia forse di spendere ancora delle risorse delle risorse dello Stato e delle risorse tra l'altro di tutti noi cittadini siamo ancora alla fase di progettazione esecutiva e quindi altri soldi per la progettazione una possibile cantierizzazione perché il pericolo è proprio questo che anche in mancanza di un progetto reale si possano aprire i cantieri perché non solo la vecchia legge obiettivo che è comunque sempre in vigore ma anche le nuove proposte di semplificazione che dovrebbero venire per le opere realizzate con il PNNR consentirebbe questo consentirebbe uno scempio ambientale enorme perché pensiamo a tutto il cosiddetto movimento terra agli scavi sono pilastri enormi quelli che dovrebbero sorreggere il ponte sulle due sponde solo per citare qualche dato più di 380 metri di altezza sono più alti delle colline circostanti un diametro di circa 80 metri sono veramente dei colossi che richiederebbero scavi di milioni di metri cubi di terreno l'apertura tra l'altro di tutte le discariche per tutti questi inerti con i problemi anche di smaltimento successivo che non sono stati ancora risolti discariche si parla di un numero incredibile di discariche sia sulla costa sul territorio calabrese sia sul territorio siciliano tutto questo potrebbe avvenire realmente perché è propedeutico alla realizzazione del ponte si potrebbe fare sono anche i lavori che tutto sommato farebbero anche piacere alle nostre organizzazioni criminali creerebbe posti di lavoro a migliaia sarebbe una nuova meraviglia del mondo che tutti desidererebbero venire a vedere e abbrevirebbe i tempi di percorrenza sullo stretto perché lei dice tutto per niente è tutto per niente perché in realtà questa è un'opera che ha un fascino incredibile questo non ce lo nascondiamo però in realtà oltre che essere dannosa non sostenibile eccetera per tutti i motivi già detti è un'opera inutile inutile perché non abbrevirebbe i tempi di percorrenza tra le due città tra Reggio e Messina quindi dal punto di vista del traffico dei pendolari sarebbe assolutamente inutile perché anzi li allungherebbe anche perché noi pensiamo che appunto si arrivi sul ponte si attraversi e si sbarchi dall'altra parte in realtà per arrivare a 60 metri della campata di 60 metri della campata unica ci vorrebbero degli svincoli autostradali e ferroviari incredibili sulla costa calabrese partirebbero addirittura da Gioia Tauro sulla costa siciliana si dovrebbe creare un viadotto enorme anche impattante da un punto di vista paesaggistico il ponte è stato per dichiarazioni stesse dei progettisti rimarrebbe chiuso almeno un terzo dell'anno per manutenzione quindi è chiaro che tra l'altro è una previsione anche abbastanza come dire ottimistica perché ci sarebbero anche le giornate di meteorologicamente non favorevoli insomma ci sarebbero tutta un'altra serie di motivi per cui il ponte rimarrebbe chiuso per cui per mezzo anno insomma più o meno non sarebbe utilizzabile tra l'altro se veramente con i fondi del PNNR venissero utilizzati per ammodernare le flotte con le nuove navi Roro eccetera e si dimezzerebbero i tempi di percorrenza anche sul appunto per mare quindi non c'è questo come dire quest'utilità nella realizzazione di quest'opera Il ponte al momento non c'è nessuna certezza scientifica che sia realizzabile che stia in piedi questo si otterrebbe solo con un progetto esecutivo che ancora non esiste siamo fermi al progetto definitivo di Massima con cui la società stretta di Messina concessionaria dello Stato dovrebbe affidare l'opera al contraente generale che è un gruppo di aziende private chiaramente che dovrebbero poi consegnare il ponte chiave in mano questo passaggio non avvenne grazie al ricorso che presentammo noi tutta una serie di controeduzioni 256 pagine che convince il ministro Monti a chiudere la stretta di Messina perché di fatto si andava incontro a rischi altissimi proprio rispetto al fatto che il contraente generale cioè i privati avrebbero potuto chiedere un risarcimento danni allo Stato perché l'opera era irrealizzabile e quindi in questo senso il vero rischio era proprio affidare l'opera ai privati quello che oggi si sta tentando di fare è che a noi sembra un riproporsi di un rischio altissimo che poi alla fine si tratti solo di aprire contenziosi infiniti che procureranno danni enormi anche allo Stato rispetto ad allora secondo lei è cambiato stiamo parlando ormai di quasi dieci anni fa è cambiato qualcosa sia dal punto di vista diciamo dei progressi tecnologici applicati all'ingegneria civile sia ancora dal punto di vista proprio ambientale e territoriale allora bisogna sfatare un mito non esiste un'opera simile al mondo e non è stata ancora dimostrata la sua fattibilità quindi non c'è la tecnologia adatta e non passerà mai un treno su un ponte simile che ne dicano perché il ponte è accampata unica più lungo al mondo in questo momento ha 800 metri perché non esiste un modello matematico per il calcolo delle risonanze quindi tutto questo gran casse di cose di affidare addirittura finanziamenti come ha fatto la De Michele alle ferrovie perché studi la fattibilità del transito ferroviario è un'assurdità in questo momento mancando la tecnologia adatta perché il treno possa transitare su un ponte i giapponesi sulla Gashikaiko avevano inserito il ponte con i cuscinetti magnetici e hanno dovuto fermare tutto ritornare sui loro passi su nessun ponte al mondo di queste dimensioni passa il treno attualmente che vadano a informarsi non è che stiamo chiedendo la luna che vadano ad informarsi sono ipotesi tutte basate sul rischio che io ritengo si possa perpetuare soprattutto con una legge obiettivo che noi riteniamo essere una legge criminogena che si attivino i cantieri malgrado non ci sia un progetto perché la legge obiettivo lo consente consente addirittura per i cantieri anche in fase di progettazione con appalti tra l'altro fino a 150 mila euro senza gare senza nulla quindi si immagini che è trantrana di movimenti terra a destra e a manche e quant'altro rovinando il territorio facendo danni come è avvenuto per la galleria di Canitello senza che poi alla fine si arrivi a nulla ma soltanto creando le condizioni perché si apra un contenzioso infinito che lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti e che ci costerà un sacco di soldi proprio in un momento di crisi internazionale in cui questi soldi devono essere investiti assolutamente altrove questo diciamo noi non è che siamo contrari all'attraversamento stabile ma che si trovi una soluzione tale prima di tutto che non impatti sul territorio e secondo che non comporti alcun rischio per le economie dello Stato e per le popolazioni che poi alla fine risiedono in questi luoghi e che sono luoghi tra l'altro di una bellezza unica al mondo se leggo in trasparenza mi par di capire che il suo più che scetticismo è quasi certezza che l'opera non si farà io sono certo che l'opera non si farà che faranno solo quello che sanno fare gallerie rotatorie vari spostamenti cantieri destra e ammanca quant'altro in attesa che si arrivi al progetto esecutivo che non arriverà mai perché l'opera di fatto come abbiamo già dimostrato con le controdeduzioni del 2021 è irrealizzabile quel progetto era pieno di strafalcioni e cose che praticamente creavano dubbi molto seri alla realizzabilità dell'opera non si può dire al contente generale noi siamo certi che l'opera si può fare adesso tu fai il progetto esecutivo perché se questo tizio dice il progetto esecutivo io non lo posso fare perché mi avete ingannato quello ci denuncia e vuole i soldi che avrebbe dovuto prendere e si prenderà i soldi dell'appalto senza mettere una pietra qui ci troviamo in un posto di grande suggestione e pensare anche per un momento che dovrebbero sorgere sette cantieri e che farebbero vuole dire rovinerebbero veramente un territorio di grande suggestione di grande valore dal punto di vista naturalistico pensate che siamo su questo sentiero dove abbiamo forse la biodiversità più importante del mondo a livello di fauna marina ave fauna biodiversità vegetale qui abbiamo dei tesori inestimabili ma ci troviamo di fronte anche a una struttura integra costruita da Gioacchino Re di Napoli nonché cognato di Napoleone qui se proprio volete emozionarvi venite qui a vedere non c'è bisogno di vedere una grande opera che è grande e non significa bello tra l'altro ma le bellezze che noi possiamo trovare su questi luoghi li possiamo trovare oggi noi ci troviamo pure di fronte a uno stretto io dico spesso stretto necessario perché necessario perché queste correnti che si muovono ogni sei ore nelle diverse direzioni provocano un microclima questo microclima è preziosissimo perché fa maturare quello che noi chiamiamo l'oro verde il bergamotto la nona il gelso bianco tutte cose importantissime che se pensassero solo per un momento a tutti questi cantieri con camion centinaia di camion che vanno avanti e indietro rovinerebbero definitivamente questo paradiso terrestre in fondo una grande opera lo è anche questa l'uomo non ci ha messo mano ci ha pensato la natura ma è una grande opera e allora si potrebbe rivoltare la cosa si potrebbe eccepire ma il ponte favorirebbe anche la riscoperta di questo sentiero in tanti verrebbero qui ad ammirare quest'opera cosa risponde? ma io penso che difficilmente se si costruisse il ponte questo sentiero potrebbe esistere ancora perché i cantiere saranno nel raggio di diverse decine di chilometri quindi sarebbero sicuramente la distruzione di tutto questo per quanto riguarda l'opera un parere importante è quello dei costruttori edili abbiamo sentito il presidente del lance Calabria anche il presidente del lance di Cosenza Giovanni Battista Perciaccante il quale sostiene che le cose possono stare insieme costruzione di nuove infrastrutture e lo sappiamo è la più grande opera pubblica di cui necessitiamo manutenzione del territorio anche perché ricorda Perciaccante mai così tante risorse siamo riusciti a ottenere anzi c'è a disposizione mezzo miliardo di euro il problema semmai è contrario cioè non si riesce a spenderlo questo miliardo di euro solo il 10-15% finora è stato effettivamente messo a frutto Giovanni Battista Perciaccante presidente della sezione calabrese dell'associazione nazionale dei costruttori edili è quasi ovvio che voi siate favorevoli al progetto di costruzione del ponte ma motiviamo questo favore perché lo siete perché ritenete che esso come lei anche recentemente ha ribadito può diventare attrattore di nuove strutture di nuovi investimenti io dico che qualsiasi infrastruttura porta sviluppo solo con le infrastrutture noi possiamo far sì che la nostra terra la Calabria e la Sicilia diventi un'unica regione ma che si colleghi la Calabria e la Sicilia al nord dell'Europa e che sia il passaggio per la Valletta per Malta e per il nord Africa la Danimarca ha 5 milioni di abitanti hanno costruito 5 ponti che collegano tutta la Danimarca e noi la Sicilia la Sicilia e la Calabria sono la Danimarca voglio dire insieme forse di più come abitanti perché non collegarle perché non collegare questi oltre 5 milioni di abitanti al resto d'Italia al resto d'Europa perché ormai non è che dobbiamo parlare d'Italia dobbiamo parlare d'Europa e noi dobbiamo fare in modo che la Valletta e Helsinki sia collegata insomma si possa raggiungere da Helsinki alla Valletta collegandole per bene creando le infrastrutture per poterle collegare da un lato la manutenzione del territorio e del patrimonio edilizio sia pubblico che privato che sicuramente è una delle emergenze ma è anche una necessità impellente del nostro paese e poi dall'altro la megastruttura e unire i due lembi dello stretto quindi Calabria e Sicilia e anche l'Italia con l'Europa si tengono insieme queste due cose posto poi che i lavori per la manutenzione del territorio assicurerebbero certamente al vostro settore al settore dire lavori per qualche decennio ecco io dico dobbiamo fare tutti quanti quadrato deve fare quadrato la popolazione deve fare quadrato gli imprenditori e debba essere presente lo Stato si ha necessità che lo Stato sia sempre più presente in questo si devono fare certamente come si stanno facendo dei protocolli di legalità con le aziende che appaltano i lavori e devono essere rispettati cioè qua dobbiamo far crescere la cultura della legalità io dico anche nei giovani nella popolazione bisogna far capire che lì dove c'è legalità lì dove ci sono regole una regione cresce una parte del territorio cresce lì dove non ci sono le regole invece di andare avanti si degredisce e noi non possiamo permettere assolutamente che i nostri giovani vadano via perché il problema ecco della mancanza di infrastrutture è proprio dovuto al faccio e poi vediamo tantissimi giovani che vanno via vanno a studiare a Bologna a Milano vanno a studiare all'estero a Torino non ritornano più perché diventa anche problematico rientrare in Calabria perché una volta allora noi per far sì che facciamo rimanere i nostri ragazzi i nostri giovani qua che sono le intelligenti sono quelle che devono ecco devono farci fare un salto di qualità dobbiamo creargli le infrastrutture dobbiamo fare in modo che da Rossano Corigliano arrivano a Crotone in 30 minuti prendono un aereo e vanno vanno su a Milano vanno su in Europa questo 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 è indispensabile e per essere e far rimanere i giovani far rimanere i cervelli qua vuol dire in qualche modo arginare anche anche il malaffare perché lì dove c'è sono persone preparate lì dove c'è competenza lì dove c'è rispetto delle regole si argina certamente anche la criminalità da un lato la manutenzione del territorio e del patrimonio edilizio sia pubblico che privato che sicuramente è una delle emergenze ma è anche una necessità impellente del nostro paese e poi dall'altro la megastruttura e unire i due lembi dello stretto quindi Calabria e Sicilia e anche l'Italia con l'Europa si tengono insieme queste due cose posto poi che i lavori per la manutenzione del territorio assicurerebbero certamente al vostro settore al settore dire lavori per qualche decennio guardi noi per la messa in sicurezza del territorio abbiamo quasi 500 milioni di euro da spendere in Calabria si sta parlando in continuazione della messa in sicurezza del territorio del dissesto idrogeologico noi dobbiamo far sì che non succeda quello che è successo ultimamente nella zona ionica di Catanzaro a scendere che non succeda quello che è successo a Dischia perché lì ci sono 12 morti insomma che la cosa è ancora più preoccupante quello che sta succedendo in altre parti d'Italia insomma a Grosseto oggi noi abbiamo necessità di mettere seriamente il nostro territorio in sicurezza e la Calabria come anche altre regioni del Mezzogiorno e la Calabria ora ne ha la possibilità però purtroppo c'è un problema perché poi dobbiamo dirle tutte le cose i quattrini ci sono i soldi ci sono sono stati anche assegnati alle amministrazioni periferiche però il problema che abbiamo oggi in Calabria è quello che accennavo prima non abbiamo professionalità noi corriamo il rischio oggi di avere tanti quattrini sul disteso PNRR una mole di di lavoro enorme però purtroppo abbiamo non siamo strutturati non abbiamo le strutture non abbiamo le competenze per poter gestire questa grossa mole di lavoro ci sono piccoli comuni lasciamo perdere le grosse centrali di committenza RFI e ANAS che sono strutturate di poter far fronte a qualsiasi tipo di lavoro ma i nostri piccoli comuni che negli ultimi anni si sono visti ridurre le professionalità che si erano formate sono comuni che sono davvero quattro gatti il rischio è che noi in Calabria abbiamo speso forse il 10-15% del disteso di oggi lo suggerisco ancora e vedo che si annaspa ancora ad appaltare perché gli enti non ce la fanno non hanno il personale per poterlo fare ci sono comuni che hanno decine di milioni di finanziamenti che non sono partiti i lavori e non sono nelle condizioni di poterli far partire ma no perché non vuole il sindaco o non vuole l'assessore perché purtroppo hanno una struttura che è precaria non hanno non hanno non hanno dipendenti e quei dipendenti che ci sono forse non sono nemmeno formati per poter fare non hanno nemmeno le competenze per poterlo fare infatti io chiedevo l'ho ripetuto più volte la regione deve fare una squadra dei tecnici che siano da supporto che siano da supporto alle piccole amministrazioni che necessitano assolutamente di una mano per poter mandare in appalto queste cose perché ripeto ora più che mai ci sono i finanziamenti i quattrini per poter mettere in sicurezza il nostro territorio ripeto i fondi ci stanno adesso tocca a noi attrezzarci noi abbiamo cercato di portarvi il più vicino possibile all'obiettivo adesso sta a voi farvi un'idea non sarebbe disdicevole se i cittadini di Calabria e Sicilia per una opera così importante un tempo così importante per il loro presente e il loro futuro venissero anche interpellati non è detto che non lo si faccia grazie per averci seguito grazie